è apposta topinambolo ma facciata come altra venga andata si qui si pensa in serie si la cima è ancora più alta e dove arrivi questi topinamboli parecchi e parecchi in alto vabbè allora questa è la scaletta quando abbiamo fatto della scuola guarda loco ora salvo salvo allora se io sono 1,63 di questa arrivo a 2,20 più quelle queste sono quasi 4 metri vedete questi fra poco cacciano i fiori si adesso prendo il video e vi faccio vedere com'è bello questo bosco di topinamboli guarda eh che crescita rigogliosa da qui scendiamo piano piano vedete ah oh il topinambolo guardate oh ma ve lo faccio da quanto c'è in più di questi guarda ora li lascio oh ecco la mia foresta di topinambolo o chi ha mangiato il topinambolo ecco questi si maturano alla fine di novembre poi ci ho fatto da una frasata per passare ecco il bosco di topinambolo guardate su ah la rascia la rascia si questa nasce vedete questi li ho seminati a tutte le prese a proposito guardate lo vediamo qui giriamo da questa parte poi il resto è tutto topinambolo eh meraviglioso guardate quanto c'è becchio eh il mio bosco no il mio orco vedete eh bellissimo passiamo a sta parte poi c'è fatto da una frasata ma sempre topinambolo sempre topinambolo questo è tutto topinambolo e topinambolo attraversiamo attraversiamo un po' 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 un po'